Ciao a tutti amici di Radio Francigena, eccoci qua, come avevamo promesso, ultima tappa, ultimo giorno di mappatura, se riusciamo oggi a finire tutta Cassino, i ragazzi sono stati bravissimi, vi vorremmo far vedere veramente la mappa con tutti i waypoint di questa splendida città e oggi grandissima sorpresa perché ci ha raggiunto forse veramente la nostra first lady perché dietro a questo progetto c'è veramente questa ragazza che si chiama Raffaella, Raffaella è la coordinatrice di tutti noi che un po' da fare tabbiamo l'anno, mi ha detto un po' da fare però siamo contenta, è un ottimo lavoro insomma quando abbiamo iniziato non ci conoscevamo tutti noi e lei è riuscita veramente a metterci d'accordo tutti che non è stata solamente opera faccia un aneddoto su tutti di questi già 5-6 mesi di lavoro forse più sì sì no è stato duro iniziato però credo che sia già il primo pezzo di strada c'è stato un ottimo lavoro no? c'è tanta gente interessata assolutamente sì, è stato costruito bene il partenariato, è stato costruito bene il progetto ed oggi finalmente ci fa qua una compagnia, facciamo un dolce break con lei e ci scambieremo un po' di informazioni su come sta procedendo Saber Universal Project e come andare avanti e come andare avanti perché il lavoro non finirà qui siamo soltanto al primo staff io cercherò di convincerla a marzo a camminare con noi quindi continuate a seguirci assolutamente sì così un po' di acqua la fanno prendere anche a lei ciao a tutti ciao da Cassino, ciao state ascoltando Radio Francigena ciao